Quando gli Avengers vanno in battaglia, sanno fare delle entrate ad effetto. Benvenuti ad Avengers Awards, presentato da me, Jarvis. Celebremo insieme a voi i momenti più incredibili e più indelebili degli Avengers in azione. Oggi vedremo le 5 migliori entrate in battaglia. Se conoscete Iron Man, sapete che la discrezione non gli appartiene. A lui piace farsi notare. Quindi entra in quinta posizione Iron Man spaccando una vetrata per sorprendere i nemici. Non vorrei dover pulire dopo quell'atterraggio. In quarta posizione c'è Hulk, ovviamente. Non prende mai gli scontri alla leggera. Esiste edificio che lui non riesca a spaccare. E non pensate che le dimensioni di un eroe influiscano sul risultato. Perché al terzo posto troviamo Wasp, che si rimpicciolisce per disattivare una tecnologia malvagia inserita nel cervello di Banner. Allora, non sono una scienziata ma c'è una sorta di... Sembra che ci sia un dispositivo collegato al cervello. In arrivo in seconda posizione, Captain America che entra in azione in scivolata per evitare i raggi laser. Che classe! E in prima posizione, l'entrata a effetto migliore è quella di Black Panther. Arriva in volo ed elimina le creature che stanno mettendo in difficoltà gli altri supereroi e scende dalla navicella con lo stile che si addice a un re. Spero che contro di me lottiate meglio di quanto non abbiate fatto con loro. Quei mostri si saranno convinti di aver giocato con dei cuccioli di Kree. È così che si fa un ingresso ad effetto. Prendete nota, aspiranti eroi. Complimenti ai vincitori di Avengers Awards di oggi. Marvel's Avengers torna presto con le azioni più milabolanti dei nostri eroi.